E' ripreso in corte d'assisi a Cosenza il processo a carico di Isabella Internò, accusata di omicidio volontario in concorso per la morte dell'ex fidanzato Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989, lungo la statale 106 a Roseto, capo spulico. Al banco dei testimoni il professor Francesco Maria Avato, che ha seguito a gennaio del 90 la prima autopsia su telega della procura di Castrovilleri dopo che erano emersi i primi dubbi sulla tesi del suicidio. Confermò la mia perizia dell'epoca, ha detto così Avato, anche perché non ho elementi per modificare quanto scrissi. Quando ebbi l'incarico non mi fu data nessuna informazione sulla dinamica dell'incidente. A mio giudizio la sfissia polmonale fu conseguente all'emorragia. Il PM Luca Primicerio ha chiesto un confronto tra i periti che hanno appunto effettuato nel tempo le autopsie ai consulenti nominati delle parti. La corte ha ammesso il confronto tra gli esperti Francesco Avato, Vittorio Fineschi, Roberto Testi e Margherita Neri in merita ad alcune contraddizioni emerse nelle varie testimonianze sulla natura della sfissia evidenziata nelle autopsie del corpo di Bergamini. La prima autopsia sul corpo del giocatore nato ad Argenta, a Ferrara, fu fatta dopo 50 giorni dalla morte. La seconda a distanza di 27 anni. Ma tra i dubbi da chiarire è la validità della glicoforina e le cause dell'asfissia evidenziata nelle autopsie. Proprio per Avato il soffocamento è riconducibile allo schiacciamento a seguito del sommortamento del camion avvenuto quando proprio Bergamini era ancora viva. Perché fu proprio l'emorragia per i consulenti Fineschi e i testi si tratta di asfissia non compatibile con l'impatto ma avvenuta meccanicamente, secondo quanto dimostrano i dati morfologici. Secondo l'avvocato Fabio Anselmo, illegale della parte civile, il confronto ha evidenziato una differenza generazionale molto marcata tra i tempi in cui ha lavorato Avato, che aveva pochi elementi come detto da lui stesso, e i tempi in cui lavoravano tutti gli altri. La vita biologica ha la sua valenza. Oggi la maggior parte dei casi italiani, quando c'è dubbio, vengono risolti con la glicoforina. Il processo è stato poi subito aggiornato al 25 di gennaio.